Sei già a letto? Sì Eh? Sì Con chi stai imprecando? Contro mio padre, porco dio Se dico a mia madre Diggli di cercarmi questo Lui mi deve chiamare per confermare Ma porco dio Dai cosa vuoi che sia Partirei alle 4 del mattino Eh cosa vuoi che sia svegliarsi Alle 3 di mattina Una roba che fanno tutti Porco dio Ci sono dei commenti E' un ottimo sport per Trenitalia Per Tenso Intelligenti